Un progetto per sostenere e incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani studenti ad apprezzare linguaggi musicali alternative alla musica moderna. Primo appuntamento con invito all'opera questa mattina al Teatro Comunale di Atri. È un progetto didattico rivolto ai ragazzi di tutti gli ordini di scuola, primaria e secondaria. Consiste questa mattina in un concerto di un'orchestra sinfonica del Conservatorio Braga di Terramo diretto dalla maestra Simone Gianovini. In precedenza abbiamo fatto un musical, West Side Story, con due appuntamenti che sono stati effettuati e stanno partecipando a scuolaresche dell'intera provincia. Un mondo musicale contemporaneo abbastanza variegato e a volte i messaggi musicali non sono magari positivi. Questo è forse una goccia nel mare, però è importante questo segnale. Grazie a tutti.